Ci siamo, con questa la chiudiamo Non portare sfortuna come il tuo solito Guarda che quello sei tu Ah sì, forse ti ero, vabbè, dai Attenzione, tiro e gol Sì, con questa lada mi ho chiuso davvero Siamo il finale di Champions E beh, possiamo ancora vincere tutto, siamo stati grandi Sono stato Cosa? Sono io l'allenatore Sì, ma senza di me, non avresti fatto molto Bah, secondo me tu qui non duraresti un minuto Ah sì, vuoi che proviamo? Cosa? A Paris Sharon Ancora tu, rompi più di cream e ce le vuole Eh sì, scusami, mi manderesti su FIFA per le ultime partite? Eh però questa è l'ultima volta, mi ha un po' rotto le dragon Spero che l'ultima volta E via! Ecco, e così vi dicevo che Salve a tutti Cosa, Vano? Te l'ho detto che sei arrivato Ti farò da secondo allenatore Ah, sta storia non finirà bene Beh, questo lo vedremo Ma prima ragazzi non dimenticate di lasciare un bel like Se vorreste altri video di FIFA E inoltre iscrivetevi al canale per non perdervi nessun contenuto E attivate la campanella per ricevere le notifiche Anche per gli shorts Inoltre se vorreste un bel libro da leggere quest'estate Vi lascio il link qua sotto per il mio libro Lo trovate appunto su Amazon, il link qua sotto Oppure in tutte le librerie Scusate, invece di dover lasciare la conferenza un attimo No, aspetta, ma dove vai? Dobbiamo parlare della formazione Non se ne parla, ora inizia la partita Tu stai lì e non rompere E cosa sono venuto a fare? Il soprammobile? No, i soprammobili almeno sono belli Dai, su che inizia Vai, mica, sei che buona Incrocia, bro, incrocia Tiro e sei, gol Grande, ha fatto come l'avevo detto io Non è che ci vuole assuncini Una cosa poteva fare Che ne sai, avrebbe potuto anche impazzire Buttarla sulla bandierina Attenzione, io tu E anche tu come lui, forza Tiro è fuori Ah, qua non gli è arrivata bene, mi sa, eh O semplicemente potete appoggiarla dall'altra parte Oh, può essere Attenzione, in mezzo Via via come una anguilla con la palla Uh, meno male Ti lo dici Ok, Cristiano, manca poco, quindi Tira Che cosa dici? È un passaggio al portiere, doveva girarla E ora, non è colpa mia se non è capace Comunque è finita, ha vinta 1-0 Oh, ma guarda un po', siamo primi, grandi No, stupido, non ho perdito in meno Ah, ecco, mi sembrava troppo bello per essere vero Forza, sei pronto per sta finale? Ci c'è la Champions? Ma no, figurati, c'è prima la Coppa Italia Ah, ecco, mi sbaglio sempre Eccoci, forza ragazzi, dai Forza, raga, dai Eh, no, scusate Diretto sbagliato questa partita E c'è di inizio, via Teniamo, forza C'è rinvito Perché non volevo portare sfortuna dicendo vinciamo Dai, forza, raga, proviamo anche a tirare, però Ma no, è giusto Teniamo, teniamo e poi La perdiamo No, raga, non intendevo quello Questo non è giusto Occhio a loro Tranquilla, l'ha chiuso Oh no, l'ha persa Aia, brutta C'è come zè, tira il gol Ah, mi sa che non l'aveva chiuso bene Ma dai Tranquilla, adesso arriviamo subito Leo, pensaci tu Bello, Messi, tiro Presa Oh, mica potrà prenderle tutte, dai E forse mi sbagliavo, eh Ancora perde Bruin Chiuso Classico di Murigno Mette il pullman e via Parcheggiatore infame Il Cassiano che prova E parata Ormai non mi sorprende neanche più Ronaldo, altra parata E fine primo tempo Ok, ragazzi Abbiamo capito che Ruiz Patricio è forte Ma noi non siamo di più Quindi entrate e staccate con la cavolo di porta Wow, che motivatore Visto? Speriamo più funzioni Sizione che se non perde Bruin E parata di nuovo Oh cavoli Mi sa che ho caricato più Ruiz Patricio di loro Palla in mezzo Oh, un'idea Ruiz, ma che te c'è tutta la monetina Ronaldo è gol Oh, funzionato Occhio per la Roma con Belotti Bravi ragazzi Coppiateli Usate anche lo Sharingan se necessario Oh, non riusciamo a segnare più però Sai, forse puntiamo su quelli sbagliati Cosa vuoi dire? Se ti ricordi Quando dovevamo veramente sbloccarla Non era mai merito di Messi Mbappé o Holland C'era sempre qualcun altro Aspetta, stai parlando di... Esatto, proprio lui Vai battaglia! Attenzione, è proprio lui che la prova E sì Grande che sentenza Occhio a Belotti per Tibala Oh, il culto ha salto subito Andiamo a cuidere la taglia di Bruin Tieni lei Tira! No, 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 no Ecco, infatti è fuori Ma sì, lei ci stava Ti è data bene che sia finita? Sì, siamo campioni di Coppa Italia Ragazzi, meritatissimo Posso venire anche io a festeggiare? No, scordatelo Immaginavo Vabbè, ha provato Occhio a Pallabone e il gol del Milan Vabbè, dai, ancora presto Possiamo ancora vincere O perdere miseramente Palli in mezzo per Ceresende che segna Sì, grande Una capoccia di granito E non ho ancora l'ordine di Colombo Gol! Vabbè, m'ho chiesto Colombo Ma tutti con noi segnano Palli in mezzo Ancora Cristiano Uff, meno male che esiste Forza, possiamo libertarla Agnontola da ancora Cristiano Che direi, gol! Cioè, grandissimo, cavolo Grandissimo Bene, abbiamo recuperato E intanto la Juve vincerà sicuro Andiamo a sentire lo studio Gli ospiti hanno conquistato un calcio di rigore Sicuro, freddo, una trasformazione impeccabile Conclusione secca e angolata Niente da fare per il portiere Punteggio che ora è sul 2-1 Quando intanto sul cronometro Se ne sono andati via già a 70 minuti Grazie per l'aggiornamento Puntuale, come sempre Non ci voglio credere Aga, la spezia speziato la Juve Facciamone un altro Palli in mezzo ancora Vola Cristiano Evviva il re Anche se ormai è quasi decaduto Wow, bene, arriviamo qui a pari punti con la Juve Sì, è incredibile Manco nelle mie più rose previsioni Bene, siamo contro il Genoa Non possiamo perdere E infatti subito palla buona Vai, Kevin E bruine, gol Ah, sì, ha capito subito come si fa Tra l'avviato che con il Genoa non potevamo perdere E infatti ancora una palla buona Ottimo Ma per il Genoa? Cosa? Tiro e gol Eh già Non così ragazzi Ricordiamoci chi siamo Una squadra creata su FIFA che non esiste nella vita reale Sì, vabbè, non intendevo quello Dai, forza, passalo Holland Uh, dai, binghino Tiro e gol Sì, due e uno Siamo ancora avanti Ancora il nostro Kevin che tira e gol Grande, grande capitano Oh no, friend Un trovagli alcin Alcin Che tira e gol Oh, ma questo dovrà un pescato Ma che pizza Tiro e nada Dai, forza, entra Ricolcia Oh, palo Ma qualcuno ci vuole male Ultimazione, mi raccomando, vale mezza capa di testa e parate incredibile su Ronaldo Rivadisco il concetto Attenzione, è finito Yes Ma che succede? Perché non festeggia nessuno? È strano, eh Magari i festeggiamenti si terranno dopo la finale di Champions Sai, scaramenzia Oh, giusto, giusto Hai ragione A proposito, eccoci Oh, che emozione Paglio e ragazzi hanno uno sguardo diverso Sì, hai ragione Fanno quasi paura Vediamo, forza, via Yes, ci siamo Siamo carichi Non è messi, messi Ancora messi Oh, sta saltando come Pirilli Paglio e mezzo per Holland Tiro e gol Oh, chi se lo aspettava così debotto? Occhio per Christensen da solo Ma no, faccialo Ma no, cosa dici? Oh, cavoli, non intervienevo così tanto, però Ecco, complimenti Ora siamo in dieci Eh, dai, ma qualcuno non diceva che si giocava meglio in dieci che in undici? Sì, certo, tranquillo Grappate le cavolate Tranquillo, ragazzi Non si faranno sopraffare Brui, la metti in mezzo per Cristiano E che me lo dico a fare? Rena Champions Sì, ma non è finita, eh Ah, giusto C'era un po' la in mezzo per Young Che ti resegna Dai, raga, ma di chi era quello lì? Ah, giusto Di quello che ho fatto espellere Ok, Chris Mann Ma chiude Chiello Oh, meno male Siamo fuori per i Oh, no, cavoli Palle in mezzo Pedricol Dai, ma che cavolo Se avessi preso il palo Uno dei nostri sarebbe uscito E finita nella nostra porta Come minimo Ah, altra brutta notizia Entra Lewandowski Io sai che credevo si fosse ritirato Palle in mezzo per Lewandowski Curto a para E direi che è un peccato Che non l'abbia fatto Ok, facciamo anche io Nella nostra mossa Giusto Fuori sala Dentro gnotto Cosa? Ma io volevo fare un altro cambio Fidati Willy E' uno che dà fiducia Bah, speriamo Attenzione Palle in mezzo Ma salva Ok, ora raga It's time Gilderland che vada solo Mamma mia Ma cos'è Norwegian Express Palle in mezzo per Lewandowski Capaccio a Pappé Goal Oh, ma chi siamo Cavoli Tutto grazie a Gnotto Grandi, raga Non ci credo Tempo scaduto Siamo troppo forti Sì È finita Mi viene da piangere, giuro È assurdo È veramente tutto assurdo E alziamola Sì Anche se non posso venire lì Purtroppo Ma sì, dai, vieni Davvero? Allora arrivo subito Oh, ma che cavolo Sono tornato? Ah, giusto L'accordo con Sharon Era per le ultime partite Sempre al solito pignolo Oh, guarda C'è l'intervista post partita Complimenti Con questa La vittoria di Coppa Italia Avete completato Un ottimo double Ma ho capito bene No, ma forse Voleva dire triplete No, no, no Guardi che è un double Lo scudetto non è stato segnato Perché siete arrivati A pari punti Scusi, cosa? Eh sì È la nostra nuova regola di FIFA Non ci credo Quindi è come aver fatto il triplete? Ma non aver fatto il triplete? Oh, i pochi gli odici Allo sci Tranquillo Ho sentito tutto cos Oh, salve sua arricosità Per adesso ho deciso di darvi altre chance Però 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 Prossima stagione Dovrete allenare insieme Che cosa? Bella ragazzi Incredibile Potrebbe venire fuori uno scenario assurdo Io e Ceresette dei poveri Insieme Per tutta una stagione Non so se è un male o un bene Vabbè comunque Io spero che questo video vi sia piaciuto Come avrete capito anche dal titolo È un triplete sì e no Non so cosa sia successo esattamente Però Se voi guardate la classifica Siamo primi Sono andato anche a riguardare i scontri diretti Vi ho pareggiato sia l'andata che il ritorno Molto strana sta regola che c'è in FIFA Però vabbè Insomma dovremmo giocarcela E vincere sto triplete per davvero Bene Ma prima di chiudere Direi di andare all'angolo di Salute Bene saluto SimoGame Non trovo il tasto di supergrazie Comunque sei il numero uno Ti ringrazio tantissimo Strana questa cosa Allora Il tasto di supergrazie Vi spiego dov'è Se siete da computer Dovete schiacciare i tre puntini E andare sul cuore con il dollaro Se invece siete da telefono Mi pare che dovete scorrere un attimino Perché non è proprio subito lì E invece da televisione ancora È lì Dovete scorrere anche lì È sempre il cuore con il dollaro È quello là Insomma Se volete È lì Sappiatelo Ciao Poi saluto Mirko Serafimi Ciao a Francesco Pinsegna Vanno porterai noi video sulla F1 Per favore salutemi Sei un grande Ti ringrazio Ti saluto E assolutamente I video su F1 Torneranno Aspettate il nuovo F1 Però raga Perché ho visto che c'è una nuova modalità storia E insomma Sappiamo cosa succede in questi casi Inoltre saluto Angelo Baldi Ciao Vanno Puoi portare WWE 2K23 Lo porterei volentieri Ma non ce l'ho Quindi io lo so Avevo provato forse una volta Ma non sono molto pratico Vediamo 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 se farlo meno Grazie comunque del consiglio Ciao Poi saluto Michelle 8.2 DJ Bel video Ma proverà La classifica Penso Che intendesse un video di Fortnite Perché Boh Non lo so Se è un video di Fortnite Penso di sì Ma lo farò con la nuova season ormai E proverà la classifica Non l'ho capito Comunque ti saluto Ciao E infine Per ultimo Ma non ultimo Saluto Donata Natale Ciao Ale Quando riporterai Se le cose parlassero Se le cose parlassero ragazzi Tornerà Promesso E vi do uno spoiler Tornerà ad agosto Non vi dico quando Però ve ne accorgerete Non vi preoccupate Perché ve ne accorgerete Tornerà assolutamente Adesso mi sono ufficialmente fregato Capirete poi il motivo Comunque io ringrazio Tutti quelli che hanno commentato E se volete essere salutati Nel prossimo video di FIFA Se ci sarà Commentate con Hashtag Triplete fantasma Perché è quello che è successo Praticamente Ci vediamo tutti i giorni Con un nuovo shorts E mercoledì e venerdì Con altri due nuovi video Bella raga Ciao E' andata bene o male Non lo so Boh Vedremo la prossima stagione Vediamo in bene